rinaldo melucci il sindaco di taranto ha aderito ad italia viva il partito di renzi è un vero e proprio salto della quaglia quella del quello del primo cittadino tarantino per tutta una serie di ragioni che ora vi espongo la prima in assoluto è assurdo che melucci parli di ecosistema taranto di ambientalizzazione a parole fa la guerra all'ex silva ad acciaierie d'italia e poi va allearsi con chi va ad aderire anzi a chi ha un movimento capeggiato da quel matteo renzi autore dei di numerosi decreti salva ilva e ammazza taranto renzi è un acceso industrialista è un difensore estrenuo del di acciaierie d'italia dell'ex silva e quindi questo già si vede l'ipocrisia di melucci melucci ha capito che non poteva avere spazio dal pd ed è andato a buttarsi nelle mani di renzi sperando di poter ottenere qualche poltrona una volta finito il mandato da sindaco qualche candidatura blindata magari alla camera o al senato e quindi melucci ora a questo punto diventa assurdo diventa ridicolo parlare di ecosistema taranto di ambientalizzazione facendo parte di un movimento che quello di renzi capeggiato appunto da renzi che adora acciaierie d'italia ma c'è di più altra contraddizione melucci aderisce a italia viva in cui fa parte di cui fa parte massimiliano stellato è stato proprio massimiliano stellato consigliere comunale regionale di taranto a portare melucci da renzi pensate un po' stellato che era chiamato è stato definito traditore da melucci emiliano ora come dire stellato accompagna accompagnato melucci appunto dal suo leader cosa fa la politica quante davvero salti della quaglia quante ipocrisie quindi ora melucci definisce stellato amico e non più traditore ma ancora non ha capito nulla melucci perché poi alla fine stellato si sta servendo di rinaldo melucci perché voleva portare il trofeo da renzi voleva dire vedi caro renzi ti sto portando il sindaco di taranto poi stellato lo butterà a mare butterà a mare melucci anche perché se uscirà un posto al sole una candidatura forte ma secondo voi stellato che fa la fa dare a melucci o la tiene per se stesso penso proprio che la tenga per se stesso quindi queste sono come dire alcune delle delle contraddizioni che caratterizzano l'adesione di contraddizioni assurde incredibili che caratterizzano l'adesione di rinaldo melucci a italia viva e potremmo continuare ma penso che al fatto che ai primi di settembre a piazza garibaldi melucci e la schlein erano accanto melucci elogiava la schlein come segretario del pd era orgoglioso della conduzione del pd da parte della schlein ecco che melucci passa ad italia viva sono passati tre mesi da quel da quella comparsata con da quella sceneggiata con la schlein come cambia melucci cosa si fa per la promessa di una poltrona e intanto cari cittadini taranto sprofonda tra un salto della quaglia e un volta faccia di rinaldo melucci una taranto che precipita agli ultimi posti nelle posizioni di relative alla qualità della vita in italia una città che basta girare basta fare un giro e trovarla proprio in condizioni pietose una città del terzo mondo melucci sindaco di una città del terzo mondo e questo sta a pensare a renzi ma solo per un interesse politico personale punto e basta